A distanza di un giorno la città di Agropoli piange un altro cittadino, Carmelo Russo, da tutti conosciuto come Melino. Aveva 91 anni, persona apprezzata da tanti, estimata. Melino era sempre gentile con tutti, simpatico con le sue cravate particolari, di cui non poteva fare a meno. Sapeva donare un sorriso sempre a tutti. In tanti lo ricordano per la crescita e lo sviluppo della città di Agropoli, costruttore di mestiere, ma anche amante del cinema. Infatti è stato proprio lui ad inaugurare diverse sale cinematografiche sul territorio del Cilento, oltre ad essere titolare di numerose filiali della Fiat in diverse città cilentane e valdianesi. Tutti lo ricordano anche per lo storico Lido Tre Conchiglie, situato sul lungomare San Marco, a gestirlo attualmente è il figlio Franco Russo. Carmelo resterà sempre nei cuori di chi ha avuto il piacere di conoscerlo e scambiare con lui qualche chiacchiera. La redazione di Cilento Channel si stringe al dolore che ha colpito l'amico Franco Russo e tutti i suoi familiari per l'importante perdita.